Informatizzazione dei servizi, più trasparenza, i progetti sulla dispersione. È una scuola più vicina al cittadino, quella che si appresta a ripartire a Napoli. La presentazione questa mattina in sala giunta con il sindaco De Magistris e l'assessore all'istruzione Anna Maria Palmieri è stata anche l'occasione per fare il punto sui passi fatti in avanti. Partiamo dalla riorganizzazione digitale dei servizi offerti che dalla refezione alle cedole librarie consentirà di ottimizzare risorse e ridurre i tempi, oltre ad intensificare i controlli nella lotta all'evasione. Con un archivio, una banca dati, un software specializzato e personalizzato sulle esigenze degli utenti della scuola napoletana, noi avremo da oggi il rispetto dei tempi per quanto riguarda per esempio le cedole librarie, i pagamenti, i controlli, il monitoraggio di tutti i servizi che offriamo alla scuola e ci stiamo avviando ad una totale trasparenza nel rapporto con i cittadini che con i loro account potranno controllare il processo. La refezione è già online, noi abbiamo un archivio di 35.000 utenti che si è costruito nel corso dell'anno scorso e con il quale quindi noi abbiamo il monitoraggio sia dei pasti ordinati che dei pasti forniti. Ai progressi nella digitalizzazione seguono quelli dell'edilizia scolastica, dal 2011 ad oggi sono più che raddoppiati, passando da 4 a 8 milioni e mezzo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture gestite dal comune. A questo si aggiunge poi l'apertura di nuovi nidi, solo 6 negli ultimi tre anni e il prolungamento degli orari di apertura pomeridiani. Siamo passati dalla crisi del 2012 in cui non sapevamo se questi servizi potessero essere garantiti, a un lavoro sulla qualità per il quale devo rendere grazie ovviamente a tutte le altre istituzioni che hanno collaborato con noi, dalle scuole all'AS Napoli 1, adesso un lavoro su efficienza e trasparenza che sono i principi della buona amministrazione. Asili nido che si aprono, 380 contratti per le maestre a tempo indeterminato, vicinanza alle fasce deboli, miglioramento della riflessione, investimento nelle strutture della città di Napoli e la città metropolitana, informatizzazione, digitalizzazione, insomma i problemi sono tanti ma gli investimenti non solo economici, anche di competenze, di qualità, l'aspetto ambientale l'abbiamo detto. Vogliamo andare in controtendenza, è vero, perché si parla tanto a sproposito dei bambini e dei giovanissimi nella nostra città, noi vogliamo stare vicino, investire e dare un segnale molto forte che la Costituzione e i diritti essenziali prevalgono rispetto alla spending review, all'austerità e al formalismo burocratico, certe volte anche molto ottuso. Numerose inoltre le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica messe in campo soprattutto nelle aree di maggior disagio. Ho sottolineato l'atto che ho fatto come sindaco della città metropolitana, la legge del Rio dice che le città metropolitane non si possono occupare di disabili, di disagio, di povedenti, di sordomuti perché se ne devono occupare i comuni. Siccome i comuni non hanno ancora preso in carico perché c'è la transizione normativa in atto, in attesa che questo accada io mi sono assunto la responsabilità di confermare le risorse economiche per garantire i servizi scolastici ai disabili, agli povedenti e ai sordomuti. Ecco, queste sono azioni concrete quando sono in gioco i diritti essenziali della persona.